C'è autostrada per Forgione davanti a sé, arriva come un treno Giannotta sull'otto di sinistra, Forgione l'ha visto, Giannotta, cross interessante, buona la chiusura però di Anci, Giannotta rimette al centro, Giannotta, palo e gol clamoroso di Giannotta, un tiro diabolico che beffa Picconi e porta avanti l'Arcadia, 1-0. Cross al centro, arriva al secondo palo, allontana quindi Forgione non è finita dal limite, il grandissimo gol di Palombi che col mancino la incastra nell'angolino basso dove non ci arriva Tommasi, dove scrive 1-1 Villadriano, bella partita. Forgione cambia marcia, sgasa sull'otto di sinistra, raddoppiato nella marcatura l'undici, d'esterno verso De Marinis che deve lavorare il pallone, prova a girarsi, arriva comunque la parata comoda di Picconi, trama interessante sull'otto di sinistra dell'Arcadia. Palla un po' troppo profonda, è stato bravo Grelloni a recuperare i passi e tempi di giocata, l'azione ragazza si sviluppa sull'otto di destra, Grelloni tocco di ritorno, si chiude il triangolo, Cross che arriva in zona Costarelli che si coordina, trova anche l'impatto col pallone, palla che però finisce nella stratosfera. Calcio d'angolo Arcadia, Cross che arriva all'altezza del dischetto di rigore, girata di testa bellissima di Di Renzi, s'ha allungato Picconi e l'ha tenuta fuori. Sgasa sull'otto di sinistra, chiuso dall'estirata di Anci pulita sul pallone, poi sbaglia tutto Anci, da lontano Costarelli, bloccata, inglobata da Picconi. Arcadia che è pericolosa tra le palle in attiva, Grelloni, palla che arriva al secondo palo, tutto solo, Jannot ha fatto un miracolo Picconi. Miracoloso il portiere del Villadriana sulla capocciata a botta sicura. De Nigris scatta prepotentemente sull'otto di sinistra, c'è tanto spazio per l'imbucata che è buona per Vettori, appena entrato Vettori, il ripallo è ancora buona, Vettori non ci credo, che intervento ha fatto Agostinelli, miracoloso. L'occasione per il Villadriana è stato miracoloso, Tommassi prima, ma è stato ancora migliore se possibile, Agostinelli ne stirà, ha fatto un miracolo. Lo scarica per Palombi che carica la conclusione, Palombi ha una spanna dal palo di Tommassi. Luciano, De Marinis d'esterno si è smarcato, bella apertura verso Carelli col destro, Carelli! Diagonale, imprendibile per Picconi, mette ancora la freccia all'Arcadia con il suo terzino, Carelli 2-1. De Marinis ha fatto la lotta, non c'è fallo per l'arbitro, si è buttato dentro il 9, De Marinis col piattone! 3-1 Arcadia col suo numero 9, mette la firma anche De Marinis col break letale della formazione di Salares, 3-1. Sono già ripresa a giocare con Depropis, che allarga sull'ottio di destra, Depropis, palla di ritorno, calcio a forte di Tessas e lo devora Vettori. Su questa situazione l'abito fischia tre volte, vittoria dal peso specifico abnorme per l'Arcadia, che vince 3-1 contro il Villa Adriana, sale in classifica, si mette tranquillità e prova a cullare sogni da ciuffare. La zona playoff, un saluto da Gabriele Cascella.